Non si ferma la corsa dell'Aquila Calcio, targata Maurizio Ianni, che supera a domicilio il Gavorrano per 2-0, in anella la terza vittoria consecutiva e si issa a meno due dal terzetto di testa formato da Aprilia, Pontedera e Salernitana. Nell'Aquila non ci sono lo squalificato Iannini e Mucciante fermato da un attacco febbrile. Li sostituiscono Menicozzo e Ingrosso, mentre Agnello ritrova il suo posto in mediana dopo lo stop di sette giorni fa. Gavorrano con otto under in campo ed un 4-3-1-2 in cui Gurma e Losicco dovrebbero fare la differenza. L'Aquila inizia subito forte, terzo minuto imbucata per Infantino che elude il fuorigioco e si presenta solo davanti ad Addario, bravo a chiudergli la linea di tiro. È il preludio al gol che arriva al decimo minuto, Agnello a metà campo vede lo scatto ancora di Infantino e lo serve. Il centroavanti Aquilano aggancia palla e vedendo Addario proteso in uscita lo beffa con un destro indirizzato sul palo lungo. Cinque minuti ed arriva il raddoppio, Rapisarda recupera il pallone, verticalizza il gioco e poi sale in proiezione offensiva. Agnello è bravo a seguire il movimento del terzino Aquilano servendolo sulla corsa e dandogli modo di incunearsi tra le maglie della difesa del Gavorrano e di superare Addario con un diagonale chirurgico. Avanti di due reti l'Aquila non si limita ad amministrare la gara ma cerca anche la terza marcatura, in particolare con Infantino. Il numero 9 Aquilano dapprima recupera una palla vagante ma al momento del tiro si vede coprire lo spazio dall'uscita di Addario, mentre qualche minuto dopo conclude a botta sicura ma trova l'opposizione, stavolta con il piede da parte dell'estremo difensore minerario. Nella prima frazione di gioco il Gavorrano si segnala solamente per un'azione personale di Gurma che prova ad impensierire testa con un tiro teso scagliato da circa 30 metri. La palla si perde però sul fondo. L'inizio della ripresa pare ricalcare il copione della prima frazione, un giro di lancette e l'Aquila si fa subito pericolosa. Rasoterra di Agnello, respinta di Addario e difesa che si rifugia in angolo sul tentativo di tapin dello stesso mediano Aquilano. Con il passare dei minuti il Gavorrano prova a prendere campo e si fa un po' più intraprendente anche grazie all'ingresso della terza punta, Peluso. Al decimo minuto infatti parte dai suoi piedi il cross su cui Gurma riesce ad anticipare testa dando modo a Nocciolini di concludere a rete. La punta del Gavorrano perde però l'attimo e la difesa Aquilana riesce ad alleggerire in corner. Al 27esimo i padroni di casa avrebbero la grande occasione per tornare in partita ma Zane ben liberatosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude l'azione cogliendo in pieno la traversa. Ad accendere il finale di gara un cartellino rosso per parte. Il signor Colarossi di Roma 2 infatti prima manda sotto la doccia a Rapisarda che già a Monito commette un fallo intenzionale a metà campo. Poi estrae il secondo giallo anche per Tognarelli reo di un duro intervento sul triarico. I padroni di casa provano fino all'ultimo a riaprire la contesa. Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi da Colarossi testa viene impegnato severamente per ben tre occasioni nel corso della stessa azione ma riesce a ribattere colpo su colpo gli attacchi degli avanti minerari. Salvo poi capitolare sulla conclusione di Moscati nell'ultimo dei cinque giri di lancette. Conclusione però inutile in quanto il gioco era stato fermato per fuorigioco dal direttore di gara.